Le formiche sono da sempre nell'immaginario collettivo l'esempio perfetto di coordinazione, cooperazione, organizzazione e duro lavoro. Nei secoli sempre più studiosi si sono lasciati ammaliare da questi insetti e li hanno studiati per comprenderne i segreti. La domanda che più di tutto è attormentato gli studiosi è stata, ma com'è possibile tutto questo? Come fanno dei piccoli insetti a produrre comportamenti così complessi e coordinati? Nel 1959, in un saggio pubblicato su Nature, i due biologi Carlson e Luscher riportarono che, dopo anni di studi e di osservazioni, si erano resi conto che tra gli animali era presente una forma di comunicazione che non era ancora stata identificata e che sembrava passare attraverso alcune sostanze dalle funzioni poco chiare, appunto i feromoni. Il termine feromone deriva dalle parole greche ferain, che significa portare, e ormone, che significa eccitamento, quindi il suo significato in sostanza è portatore di eccitamento. Al giorno d'oggi sappiamo che queste sostanze biochimiche sono prodotte da ghiandole esocrine presenti in alcuni organismi, come infatti le formiche. Ogni specie di formica usa diversi tipi di feromoni e varie combinazioni e permutazioni di questi per dare luogo a comportamenti complessi. In generale i feromoni sono classificati a seconda dell'effetto provocato, dividendosi in feromoni traccianti, feromoni d'allarme, feromoni innescanti e feromoni di segnalazione. I feromoni sono fondamentali nella vita delle formiche. Grazie ad essi loro vedono, seppur essendo dotati di scarse capacità visive, sentono, tracciano percorsi, comunicano e intraprendono azioni per il benessere della colonia. I feromoni, unitamente alla combinazione di idrocarburi emessi dalle formiche stesse, creano un tipico odore per ogni singola colonia, decretandone la differenza tra tutte le altre, anche se della stessa specie. Una dimostrazione pratica dell'uso di feromoni da parte delle formiche la si può notare durante le battute di caccia o le esplorazioni del territorio. Le formiche che intraprendono nuovi percorsi camminano puntando il gastro al suolo, rilasciando queste sostanze traccianti che segneranno il percorso da seguire per le operaie nuove che si aggiungeranno all'esplorazione, oppure per ricordare la via del rientro. La prima formica che raggiunge il cibo ritorna al nido rimarcando la traccia e nel mentre la traccia lasciata dalle altre si indebolisce, quindi alla fine a rimanere è solo la scia di feromoni lasciata dalle formiche che raggiungono il cibo e tornano al nido nel minor tempo possibile. Questo fa in modo che le altre foraggiattrici seguino e ricalchino a loro volta la traccia di feromone che segna in sostanza il percorso più breve. E questi sono solo alcuni di tutti quei fenomeni dovuti ai feromoni e che hanno reso le formiche così famose agli occhi del mondo. Io sono Francesco e vi ringrazio per l'attenzione. Non dimenticare di iscriverti al canale youtube ufficiale Enzi Italia per rimanere sempre aggiornato su nuovi video e contenuti.